Io voglio capire per quale motivo ogni volta che qualcuno si espone in maniera negativa sulla traccia contro qualcun altro, è la classica logica, vuoi solo fare due click, lo fai per visibilità, rosicone, cioè è chiaro che se uno fa un dissing è perché gli rode il culo per qualcosa, è chiaro che molta gente magari fa il dissing per avere due click, però un conto è che io dal nulla risbugo tizio e caio dissing, oppure come Massimo Pericolo che disse che Toce o Touch, come cazzo si chiama quel ragazzino, mi sorprende il fatto che abbia fatto un dissing a uno non famoso, quando solo nella mia zona si fanno solo dissing a personaggi tra di noi, insomma e via dicendo, quindi questa non è una novità che si facciano i dissing tra ragazzi, però tornando al discorso principale, ogni volta che uno attacca qualcuno più famoso di sé, lo stai facendo per i click, lo stai facendo perché hai bisogno di visibilità, lo fai perché non ti incula nessuno, ma lo fai perché ti rode il culo per qualcosa e non per forza del successo si può fare? È il caso del freestyle di Kento, su Contro puro Sinaloa, ora, diciamo rapidamente che Kento poteva partire un po' meglio, perché porca puttana mi vuoi mandare un messaggio ai giovani e le prime quattro barre me le chiudi tutte con cazzo, che per carità è una scelta, non è che non sappia chiudere le rime, però è una scelta del cazzo, perché mi ha dato molto fastidio, poi l'ho ascoltato tutto ed è un bel freestyle, ti fa riassaggiare la vecchia scuola, cioè mi è piaciuto molto meglio di puro Sinaloa, cioè è stato, guarda, veramente mi è piaciuto sto freestyle, però da come ha iniziato, chiunque l'ha odiato, chiunque ha detto ma che cavolo sta a fa' questo qua, quindi magari la prossima volta Kento che vuoi mandare un messaggio di questo genere, o chiunque sta ascoltando che magari vuole fare un dissing o vuole dire qualcosa alla nuova generazione, cioè utilizzate la testa, vuoi fare la rima tutte con cazzo, mettila a metà, prima dimostra chi sei, poi fai il tecnicismo col cazzo, capito, cioè se tu mi parti in questo modo dai proprio un fastidio, e vabbè a parte questo, a parte quel fiatino, ogni barra insopportabile, anche quello è un classico un po' della vecchia scuola, tolti questi due aspetti, il freestyle spacca, è hardcore vecchia scuola, è rap, e soprattutto è un rodimento di culo vero, il rodimento di culo di chi ha visto una canzone simbolo per una generazione, per un'intera categoria di persone come noi, che ci siamo cresciuti con questi beat, e che giustamente ha detto ma che cavolo avete fatto, cioè raga, questi qua hanno fatto puro Sinaloa, ma con la benedizione di chi, di Don Joe, di Marrakesh che non ci sta più con la testa, sta solo a pensare alle cazzate che si lascia far dire, te lo spacco quel telefono da Elodie, che è diventato una femminuccia Marrakesh, è uno dei miei rapper preferiti, il nuovo disco è una bomba, aspetto il prossimo, lo rispetterò per sempre, il King, però è diventato una ragazzina Marrakesh come persona, questa è come la penso, e l'ha dimostrato in più occasioni, poi magari ne approfondiremo, di chi, di l'approvazione di chi, di Don Joe che è un businessman, Don Joe non è più quello dei Club Dogo, da vile denaro, Don Joe non gliene frega niente, faceva i featuring con Arisa, quella roba pop già con i Club Dogo, Don Joe è un produttore, è un businessman, è uno che gliene frega solo di produrre prodotti, e di arrivare nei primi posti, sì mi dice uno produce i giovani, un sacco di giovani, sì ma che giovani produce, come li produce, che messaggio manda, per me puoi fare rap, trap, pop, indie, reggaeton, puoi fare quello che ti pare, ma ci fosse uno che ha fatto collaborazioni con Don Joe o che abbia firmato con Don Godzilla che abbia portato un messaggio in mezza rima, neanche uno, sia chiaro, se avessi la possibilità di firmare con Don Joe, firmerai subito, questo non vuol dire niente però, perché un conto quando non è nulla, un conto quando hai, hai libertà di scelta, io se avessi la possibilità di firmare con Don Joe non è che avrei tanta scelta, bene, questo per dire che il buon Kento, Boraccio, ha voluto dire la sua perché si è visto stravolto un concept, che è quello di Puro Bogotà, e sti ragazzi l'hanno fatto con disimpegno, perché se tu vuoi fare, vuoi prendere il concept di Puro Bogotà o adesso dovessi rifare Cani Sciolti, come ha fatto il Club Dogo nel 2015, era, non mi ricordo, no, prima, prima, 2007, era, sì, 2007, cioè, se tu vuoi prendere un classicone, è come se adesso voglio rifare la porra, ci vuole rispetto, non disimpegno, cioè questi l'hanno fatto, poi nel disco di Ernia non è che diceva faccio un singolo tutti insieme, no, hanno voluto riprendere, hanno voluto fare i ragazzi, gli erediti, e l'hanno fatto veramente male, e quindi uno ci sta che dice la sua, punto, può piacere, può non piacere, sia il dissing che il pezzo, però, che mi volete dire, che Puro Sinaloa è una pietra miliare, che è stata una canzone che ha ripreso i valori del pezzo originale e l'ha riportati, oppure sono solo quattro strofe in freestyle, diciamoci la verità ragazzi, non scherziamo, ora, e quindi Kento ha detto la sua, e ha fatto un qualcosa più inerente al concept di Puro Bogotà, di Puro Sinaloa. Il discorso è che non riesco a capire tutti questi qui che scrivono Turo, Sicone, che parli, solo perché magari sto Kento non è mainstream, non lo conosce magari nessuno, fa la sua vita, fa la sua strada, ok, ma magari questo qua sono vent'anni che calca palchi, e quindi ne può anche dire più di un Ercomi, che io mi piace tantissimo Ercomi, è quello che rispetto di più, ma quanto tempo è che fa musica Ercomi? Un anno? Un anno e mezzo? Due? Bene, musicalmente stiamo parlando di un grande talento, però uno che fa rap da vent'anni, magari su quel concept lì non dico che abbia qualcosa in più da dire, però neanche che non debba esprimersi, perché altrimenti è solo un rosicone. Ecco, poi lui ha portato proprio il suo concept hip-hop, due guardaspalle dietro che guardano male la camera, con la classica rappata, ok, va bene, cioè, fa parte di un mondo vecchio, quello che lui conosce, ti ha portato alla sua realtà, e ci sta anche perché viene dal sud, dal sud quello più cafone, più particolare, e quindi ha portato quella roba lì, che ci sta di male? Io pure vengo dal sud e ho fatto i video così, e oggi preferirei riproporli così, che fare i video alla rosa chemical, con tutto il rispetto. Ora ragazzi, iniziamo a riflettere, uno deve ascoltare la canzone con la mentalità aperta, per capire se è vero che sta rosicando, o che voleva solo visibilità. Per me Kenton non voleva solo visibilità, si è espresso, ha detto la sua, e l'ha fatto in rima. Io anche quando è uscito il brano, ho detto la mia negativa, l'ho fatto su un podcast, perché il mio spazio adesso è il podcast, lui l'ha fatto su un freestyle, che non è che dici una traccia ufficiale, che abbia speculato, e quindi di conseguenza io dico, riflettiamo, riflettiamo, basta dire a priori, tu fallito perché falli di meno, perché anche uno con zero follower può prendere il microfono e dire una verità, e comunque ha il diritto di farlo. Tutto qua. E questo dobbiamo riflettere, su questo è importante che ci soffermiamo, sul fatto che il peso delle parole non dipende solo da chi ha più follower, o da chi le dice. Il peso delle parole è il peso delle parole, al di là della mia storia personale. Io posso dire cose giuste e poi fare mille cazzate, ma comunque devo avere la libertà di esprimermi. E Sto Kento ha detto la sua, su una blasfemia, perché quella pura Sinaloa è una blasfemia. Punto. Dalla mia prospettiva. Poi può piacere o non può piacere. Però oggettivamente. Hanno rovinato, o comunque hanno omaggiato con disimpegno, un capolavoro. Potevano evitare di farlo. Punto. E Kento è sicuramente più vicino a quello che era pure Bogotà una volta. Tutto qua. Comunque, apriamo la mente, anziché attaccare a buffo. E cerchiamo di capire. Poteva fare di meglio Kento in alcune cose? Sì, assolutamente sì. Però, a me è piaciuto. Molto. Potevano fare di meglio i ragazzi? Ecco. Su questo mi soffermerei più che su Kento. Perché Kento muo è andato, ha fatto il suo. Tra una settimana torna nel dimenticatoio. Questi no.